Dopo anni di attese, lungaggini burocratiche e tanti adempimenti, finalmente possono partire i lavori di riqualificazione di Palazzo Iadopi, di proprietà della regione molise stimati in quasi 2 milioni di euro, ad annunciarlo il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Roberto Di Baggio. Il palazzo, che si trova in piazza Carduccia di Sernia, risale al XVIII secolo e fu teatro di orrendi crimini durante l'unità d'Italia. Nel 1860, infatti, Stefano Iadopi entrò a far parte del comitato di accoglienza del nuovo re d'Italia Vittorio Emanuele II di Savoia. Per tale motivo i Borboni, oppositori del nuovo sovrano, decisero di tendergli un agguato, che invece finì col colpire il figlio che venne massacrato e morì. Per aiutare la famiglia Iadopi giunsero a diserne i garibaldini, i quali furono sopraffatti. Si ritirarono all'interno del palazzo che fu poi incendiato e le loro teste vennero infilzate e appese ai balconi. Una leggenda popolare narra che tutt'oggi tra le mura dello stabile si aggira il fantasma di uno di loro. La città pentra attendeva da anni lavori di riqualificazione e finalmente, tra circa un anno o poco meno, avranno inizio. Lo stabile verrà trasformato nella casa della cultura molisana.